Che bello qui, dove siamo? Salve signora, è al Dikio Garden Center, dove la primavera è di casa. Ma che emozione, qui è meraviglioso. Certo, oltre alla magica atmosfera primaverile, per lei sono iniziate le super offerte su piante, giardinaggio, decorazioni per la casa e sulla nuova collezione mobili da giardino con prezzi vantaggiosissimi. Benissimo, lo dirò alle amiche. Dikio Garden Center è a Metaponto e a Matera, presso il centro commerciale Venusio. Scopri il mondo Dikio su vivaidikio.it Dikio, coltiviamo passioni per offrirvi emozioni.